Siamo insieme a Dario Taras eh ex giocatore di rugby eh presidente dell'associazione Messapi Rugby Club eh per raccontarvi un progetto importante ehm al quale tutti possiamo partecipare e per raccontarlo sono con noi Sergio Zorzi ex regbista eh alle spalle due mondiali eh sei volte campione d'Italia oggi allenatore di rugby ed è direttore di un'accademia di rugby. Insieme a noi c'è anche Gianluigi Zucca eh fondatore eh del gruppo eh pazzi di rugby e c'è anche Elena Tomassoni social media manager del del gruppo pazzi di rugby. Allora cominciamo anzitutto da Dario Dario Taras eh raccontiamo un po' questo progetto è un progetto molto interessante eh ed è anche in un certo senso un esempio per tutti perché è l'esempio di come quando le istituzioni eh sono un po' sorde alle necessità del territorio eh sì ci si può comunque rimboccare le maniche e e cominciare intanto e fare e realizzare qualcosa di importante. Allora Dario raccontaci anzitutto di quale progetto stiamo parlando? Di che cosa si tratta? Sì intanto buonasera e grazie e grazie per avermi eh per avermi concesso questo spazio. Allora eh come hai detto tu io sono il presidente di un dei messapi rugby club che è un gruppo di lavoro che eh prende le redini dagli amatori Tricase Rugby che è stato fondato nel duemila e quattordici in nel Basso Salento eh precisamente a Tricase e e niente da qualche anno abbiamo deciso di eh eh cambiare il il nostro nome per eh come dicevo come dico sempre per cercare di essere un po' più territoriale e non ehm ad esclusività di un solo paese anche perché i nostri i nostri ragazzi le nostre eh anche le nostre potenzialità vengono da non solo da Tricase ma da tutto l'Interland e allora ci sembrava giusto anche per dare lustro a eh ai guerrieri messapi che hanno eh come dire abitato questa zona eh prendere qualcosa prendere qualcosa da da loro infatti come come dico sempre lo scudo e eh il nostro logo che è poi lo scudo messapico assomiglia tantissimo ad un pallone da rugby. Quello che vogliamo fare quello che che ci siamo come dire messi in testa di fare il caso di dire è quello di creare una struttura all'interno della quale eh poter eh utilizzare lo sport come eh messaggio sociale eh ed in particolar modo il rugby si presta bene a questo tipo di a questo tipo di messaggio. Più concretamente lo facciamo non lo facciamo da soli perché noi crediamo nel nell'unione. È vero che l'unione fa la forza e quindi ci siamo fatti eh aiutare da chi queste queste cose le fa da più tempo di noi e le fa molto meglio di noi dobbiamo ringraziare anche eh Sergio Zorzi l'Accademia dobbiamo ringraziare Gianluigi Zucca i pazzi di rugby e tutte quelle realtà in in Italia eh che ci danno una mano anche attraverso i loro consigli eh le loro valutazioni e e quant'altro insomma. Ecco raccontiamo bene il progetto. Si tratta della costruzione della costruzione vera e propria di un di un campo eh all'interno del quale fare sport ma anche la costruzione di una clubhouse all'interno della quale non solo eh incontrarsi e fare eh fare eh creare socialità ma anche utilizzare quella struttura per eh per il sociale mi spiego meglio il nostro intento è quello di creare un eh un piccolo dopo scuola eh per i nostri ragazzi e non solo ma creare eh motivo di incontro anche per altre realtà sportive che con noi dico sempre con noi vogliono eh vogliono condividere questo percorso questo questo percorso che non solo è sportivo ma è un percorso anche di vita e di crescita. Ecco adesso vorrei far intervenire Sergio Zorzi perché ha mh supporta questo progetto e ha eh si si impegna proprio in qualità di tecnico sportivo eh per alcuni anni proprio per questo progetto. Possiamo dire che eh veramente in questo caso ehm lo sport eh ci ci insegna che fare squadra poi ti permette di raggiungere tutti insieme a un obiettivo eh perché mh hai ritenuto importante eh partecipare ed appoggiare questo progetto. Beh intanto vi saluto tutti e mi fa piacere essere qua al fianzo di Dario Talas che ormai è diventato un amico non è più un discorso lavorativo ma è proprio un po' che siamo diventati amici. Ecco il rugby cementa amicizie che murano tutta una vita. Dunque veramente è un veicolo e un mezzo sociale. Un mezzo sociale anche per le future generazioni. Premesso questo diciamo che eh il sud è un po' abbandonato anzi è molto abbandonato e ha bisogno ha bisogno di di strutture ha bisogno di di persone che portano cultura del rugby perché alla fine io ho notato una cosa girando oltre 50 club. Il rugby non è molto conosciuto viene per per tutte le persone viene considerato uno sport di combattimento ma tipo box no? Invece il rugby è è tutt'altro è uno sport intelligente è uno sport dove si educa all'amicizia dove si educa appunto le persone a condividere un sogno no? La condivisione di un sogno attraverso uno sport umile dove l'obiettivo principale è proprio quello di avanzare uniti insieme per raggiungere un obiettivo comune dunque uno scopo comune. Detto questo detto un soldone un po' così cos'è il rugby per me dunque questo è un'amicizia sociale no? Un condubio sociale. Ho scelto di idegarmi così a Dario perché secondo me si può fare molto in Puglia si può fare molto in Sicilia si può fare dobbiamo fare di più in queste in queste in queste condividiamo questo e ho visto che portando emozioni portando soprattutto con gli allenatori in primis ma anche con i genitori facendo capire cos'è questo sport e cosa può dare ai loro figli è germogliato qualcosa è germogliato qualcosa e da questo piccolo germoglio adesso abbiamo veramente un frutto che sta che sta nascendo e diciamo che si sta sta nascendo il famoso campo da rugby e dunque io sono questo sogno si sta avverrando no Dario e dunque io sono una piccola ho aiutato un po' a raggiungere questo sogno che spero diventi veramente un grande sogno no? Almeno ci siano 200 ragazzi che corrono felici in quel campo di rugby no? Che sono l'obiettivo primario. E con noi c'è anche eh Gianluigi Zucca eh fondatore del social group eh pazzi di rugby eh che è un altro esempio appunto della eh di come lo sport e la solidarietà sono poi un connubio che funziona perfettamente. Ecco Gianluigi ehm anche voi sostenete il progetto di eh della messapi rugby club eh cosa significa investire energie e ehm e risorse anche in progetti eh comuni e di solidarietà solidarietà Ti esce proprio naturale perché anche per le l'età che abbiamo siamo quasi della stessa classe e come mi diceva Dario l'altra volta forse non ce lo ricordiamo ma in campo ci siamo anche incontrati e scontrati eh negli anni passati già allora già allora come pionieri ad esempio qua dalle nostre parti quando il rugby iniziava a partire qua eh è stato bellissimo e il valore aggiunto che ha Dario l'importanza che ha di quello che sta facendo Dario quello che faremo tutti insieme è proprio l'iniziare insegnare a questi ragazzi dall'inizio è una cosa importantissima eh perché ci sarà stato qualcuno che negli anni ottanta quando è arrivato nella classe che faceva la prima media dove regnava il calcio il basket arriva il personaggio che ti prende parlandoti di una palla strana fuori misura stranissima fatta anche male perché ovale la butti per terra non sa non la prendi mai cioè così e quella persona lì che è riuscita a metterti in testa qualcosa di particolare che ti ha ti ha condizionato tutta la vita ti ha condizionato tutta la vita ma non soltanto nell'ambito sportivo nell'ambito dell'amicizia nell'ambito lavorativo eh ti ha come crea ti ha come quasi avvolto di 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 una magia di una di una io dico arrivo a parlare a volte di una religione di una cultura particolarmente strana che ti porta proprio a fare quello che stiamo facendo ad esempio con Dario quando vedi queste iniziative dove investi completamente tutto perché capisci che Dario là è proprio giusto è la persona giusta per quello che sta facendo là capito sciolto da tutte qualsiasi altro legame dal soldo dalla politica qualcosa di strano dove adesso il compito che ha lui è proprio questo lui come anche Zordi come anche noi che dobbiamo rappresentare quel momento lì particolare lì Dario far capire a questi bambini che c'è qualcosa di strano questi sono strani come mai sono così strani questi eh e farli affascinare in questo mondo che è il rugby che meno male eh se ci capiamo subito noi quando parliamo ti fa un'emozione dentro che è particolare soprattutto chi poi il campo l'ha vissuto ecco importante è quello perché è quello che io sono tornato da pochi anni nel mondo del rugby ho trovato delle alcune persone che coprono cariche dove in campo non ci sono mai neanche state il rugby non l'hanno mai neanche vissuto quindi eh trovo strana questa cosa che riescano a professionare bene e a far vivere bene questa emozione far capire l'emozione del rugby loro è proprio cosa invece che chi c'è stato in campo e chi proprio l'ha vissuto come l'abbiamo vissuto noi è un ruolo importantissimo per quello che Dario adesso ha un compito ben ben definito che ne sembra messo così ma capisco a volte quando mi chiama che mi dice Gigi guarda dammi una volta perché cavolo sto andando giù vai tranquillo Dario non preoccuparti ci siamo il sostegno c'è quindi e lì riparte ancora alla grande ecco questo ci spinge a fare quello che facciamo ecco mi piacerebbe eh vorrei chiedere questa domanda ma non a qualcuno in particolare poi ognuno di voi se vuole dare la propria risposta eh può farlo e che cosa significa per i per i ragazzi per i giovani di una comunità bambini e ragazzi di una comunità avere eh il lo sport come risorsa come momento di aggregazione ma anche per di educazione chi vuole rispondere per cui Dario sì allora eh vabbè noi ci come dire ci sentiamo molto eh legati a a questo tipo di eh ci sentiamo molto legati a questo tipo di tematica perché primo ehm perché sappiamo che è una cosa importante eh sappiamo che va fatta e quindi la facciamo al meglio eh poi perché ci sentiamo anche legati a quello che è il nostro territorio eh per questo abbiamo deciso di rimanere qui e di fare qualcosa eh per il nostro territorio era molto facile per noi per me personalmente era facilissimo andar via e ricollocarmi sia dal punto di vista professionale che sportivo in in una situazione in una situazione molto più eh più facile ma come dice eh Sergio sempre eh usciamo dalla nostra zona di comfort e proviamo a metterci in gioco eh proviamo a metterci in gioco e proviamo a metterci in gioco noi stessi in al cento per cento io dico sempre che eh è più facile odio preferisco di più ecco facciamo una cosa preferisco di più essere eh il primo tra gli ultimi che l'ultimo tra i primi è interessante questa cosa qui volevo aggiungere una cosa sì sì scusa sorry no no vai vai vado io io penso che noi dobbiamo veramente creare un mondo un mondo dove un sistema in quale le persone desiderano in ogni caso appartenere a quello che un po' manca secondo me è l'appartenenza no? l'appartenenza anche a uno sport alla scuola a qualsiasi cosa dunque eh attraverso questo sport che secondo me è come diceva Luigi ehm dentro raggruppa tantissime emozioni e tantissimi valori valori che un po' abbiamo perso dunque usare questo sport come metafora per la vita per l'educazione e la vita infatti il rugby non è solo tecnica o tattica ma è anche educazione e desiderio di emozionare e attraverso l'emozione noi dobbiamo usare l'emozione per eh educare i nostri giovani educare i nostri giovani alla vita alla socialità al al depotenziare l'io per aumentare il noi per donarlo al noi anzi la parola giusta è depotenziare l'io per donarlo al noi perché c'è un avversario difficile da battere e spesso non gioca con l'altra squadra ma è quello che ognuno di noi si porta dentro cioè il nostro ego e dunque noi dobbiamo lavorare per combattere il nostro ego e diciamo e lavorare per in noi e mai come in questo periodo questa questo modo di di vedere la vita è forse più più utile e Gianluigi c'è anche Elena lì con te io le vorrei chiedere quanto è difficile andare dietro ai pazzi di rugby in quanto social media manager beh no dai difficile bisogna avere tempo e questo è però è un bel tempo speso no? sì sì avete i pazzi di rugby hanno anche portato concretamente hanno dimostrato concretamente cosa vuol dire solidarietà in molti progetti no Gianluigi? cerchiamo di cavalcare il più possibile quello che dicevo prima il discorso che sono i valori che ti dà il rugby che poi diventa semplice anche portarli avanti se li vivi proprio con i valori lì proprio nel quotidiano non solo in campo quello che ci tengo tantissimo a specificare questa cosa va benissimo la tecnica va benissimo tutto per quanto riguarda il discorso del campo ma se prima però partiamo come dicevamo con Dario a costruire proprio dei ragazzi nei valori particolari non è difficile poi quello che si fa esce naturale proprio poi ed è bellissimo questo in tutte le cose che riusciamo a gestire anche con gli amici dell'autismo con i ragazzi dell'oncologia con tantissime realtà che condividiamo grazie al gruppo dei pazzi di rugby in tutta Italia con la delegazione con tutti gli amici che ne fanno parte essendo uniti ebbene quando c'è qualcosa riusciamo a gestire le cose in maniera molto positiva ed è bello questo veramente bello io vorrei che Dario ci potesse fornire i riferimenti per poter effettivamente poi aiutare il vostro progetto a crescere come come si può fare? beh noi abbiamo una pagina facebook la pagina facebook dei messapi rugby club adesso stavo dicendo pazzi di rugby perché comunque mi sento ci siamo un po' messiati tutti no abbiamo la nostra pagina facebook all'interno della quale ci sono tutti i riferimenti per intanto per prendere visione di quello che è il nostro progetto e di come lo stiamo portando avanti ma anche i riferimenti attraverso i quali ci possono poi realmente dare una mano o dare un contributo ovviamente ci sono i pazzi di rugby ci sono i pazzi di rugby e ultima e non ultima Accademia di Sergio Zorzi che può tranquillamente anche perché Sergio è il nostro direttore sportivo e quindi anche Accademia di Sergio Zorzi può fare da tramite per questo scopo insomma ecco allora do l'ultima parola a Sergio Zorzi per fare un piccolo appello per dire perché contribuire a questa causa perché Dario intanto è una persona fantastica c'è un gruppo di allenatori là che sono veramente ma come penso Gianluigi lo conosco poco però insomma mi pare di capire che prima di tutto è una gran brava persona e dunque questo è fondamentale perché aiutare Dario perché è una gran brava persona ha un'idea del rugby appoggiata che di pari passo lavora con il sociale dunque io penso che noi prima di tutto dobbiamo lavorare sulle persone prima che vincere non è vincere il rugby è lavorare sulle persone aiutare le persone a diventare degli esseri umani migliori e questo è il grande obiettivo, il grande scopo del rugby diventare delle persone migliori dunque Dario è una persona fantastica aiutiamo questi giovani che andranno nel campo del rugby quindi vengono stati rugby a diventare delle persone migliori e i futuri campioni no no sposo tantissimo quello che ha appena detto Zorzi quello che ho cercato, cerco di pubblicizzare io, di far capire io il discorso del campo che sarà un centro polifunzionale poi aiutami Dario se dico qualcosa magari che c'è da aggiustare la cosa tutte le società, 500 e bassa società in Italia di rugby che vogliono aderire a questo progetto abbiamo fatto tutti i nostri conti perché poi c'è una parte contabile seria che quando noi ci mettiamo la faccia nelle cose, le cose poi le documentiamo tutte verrà fatta la raccolta, verrà documentato il tutto settimanalmente o mensilmente di quello che viene raccolto e veramente se ogni società si impegna a fare un piccolo contributo il progetto è importantissimo dove poi tra l'altro il campo che verrà creato lì è un po' il paradiso 365 giorni spettacolari perché lui il personaggio lì tante volte qua fa un freddo a mano là si possono fare tantissime cose anche con i ragazzi che domani vogliono andare giù allenamenti, stage, grass, colonie, tornei amatoriali come diceva Dario con tutti abbracciando un po' tutti gli sport con i valori dello sport quindi ragazzi società diamoci da fare che in poco tempo dobbiamo aiutare Dario a concretizzare anche a concretizzare se no non mi dorme la notte a concretizzare Annalisa posso aggiungere una cosa mi permetti una cosa a cui credo moltissimo dunque l'appello lo rivolgo agli amici della Puglia andate e portate i vostri bambini, i vostri ragazzi ai messapi rugby perché? Perché ci sono allenatori che prima di aprire la mente delle persone aprono il loro cuore e questa è una cosa grande a mente ci sono allenatori che sono molto sensibili e dunque portatevi là per questo motivo prima di aprire e non si formano solamente i campioni i futuri campioni di rugby sportivi di domani ma gli uomini e le donne perché il rugby è anche per le donne io vorrei chiudere e vorrei chiudere con una frase è più che una frase uno spot che Sergio in un in un pomeriggio che era qui eravamo qui al mare ha tirato fuori e noi ne abbiamo fatto uno dei nostri spot anzi il nostro spot ed è anche come dire è un condividere con Gianluigi e con tutte le altre realtà che vorranno darci una mano ma non parlo solo dal punto di vista economico io parlo anche dal punto di vista sociale, educativo anche solo sentimentale cioè l'esprimere già solo l'esprimere un sentimento positivo per quanto sia per noi è già un segno di stima Sergio dice sempre che ritrovarsi insieme è un inizio restare insieme è un progetto riuscire a lavorare insieme è un successo